Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi dove per lavori tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est si segnalano rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno e tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Si ricorda che fino alle 23 del 6 novembre l'entrata di Empoli Est resterà chiusa in direzione Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Su raccordo Siena-Bettolle rallentamenti per lavori tra Casetta-Monti Aperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano Terme e Colonna del Grillo in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!